Quella di Marx e quella di Hegel non sono narrazioni e questo è il punto di tutti i punti, ovvero sono presumibilmente l'ultima pretesa nell'ambito della filosofia, una pretesa analoga c'era la scienza della natura, l'ultima pretesa nell'ambito della filosofia di pensare, di andare di pari passo del pensiero e della cosa. Questo andare di pari passo del pensiero della cosa è il leitmotiv della filosofia occidentale, il mondo è pensabile e ci importa pensare, che il soggetto può pensare l'oggetto. Qui c'è l'ultima voce di questo impulso e aveva ragione, il giovane Foucault quando diceva Marx non ha prodotto una frattura totale rispetto a ciò che era preceduto, perché almeno questo impulso c'è. Naturalmente non è più il soggetto che pensa l'oggetto, ma è il formarsi del soggetto-oggetto, ovviamente se hanno un contesto dialettico. Non di meno l'idea che questa non è una narrazione, è l'idea forte che c'era dentro la testa di Hegel e dentro la testa di Marx. Detto in un altro modo, la totalità esiste, non è una grammatica, non è una sintassi, è la realtà. Esiste un pensiero capace di pensarlo in modo non arbitrario. Non arbitrario, cioè non è che una narrazione ne vale un'altra. Detto ancora in un altro modo, non tutto è possibile. Il reale è razionale, cioè nella misura in cui quel reale è anche necessario. È il pensiero che pensa quella realtà razionale, lo pensa come tale solo perché ne vede la necessità, anzi ne fa emergere la necessità. La coscienza produce il mondo? Certo che sì, la verità è quella. Ma questa produzione non è un segno. Non è un segno. La differenza che c'è fra De Bode e Bode e Bode è questa. Cioè che uno dice, bene, tutti e due dicono, a questo modo non vi è che immagine e rappresentazione. Uno dice questo e basta. L'altro dice perché c'è questo. Perché l'immagine è prodotto dalla potenza della merce. Questo potrebbe apportare assolutamente niente. Guardate, questa è la più grande posta in gioco della storia della filosofia. Dopo la vera cesura non viene con Marx, la vera cesura viene con me. Marx è uno che chiude l'epoca. E dice che dice che tutto è possibile. E dice che scardina il teorema della pensabilità. Perché in realtà la questione non è più pensare il reale, ma si vede nel pensare un atto di puro dominio. È sempre stato così e sarà sempre così. A questo punto il pensare non è più essenziale. Qui invece siamo davanti all'ultima potenza del pensare che attraverso la produzione del pensiero scopre che il soggetto produce se stesso e produce anche la realtà, come dire, storico-fattura. Da qui ciò a cui il marxismo non può rinunciare, è una filosofia della storia. Non puoi dire, io sto dentro la dialettica e puoi dire, boh la filosofia della storia è un rottane, lo butto via. Puoi. Io l'unica correzione che farei a questo libro è che secondo me... Allora, Marx sicuramente si impegna in vari luoghi a tracciare delle coordinate, chiamiamole transepocali. Sicuramente si trovano, ci sono. Quello che io dico è che non c'è bisogno di questo. Quello che Marx in realtà, di cui ha assoluto bisogno, è una filosofia della storia moderna, cioè la filosofia della storia del capitale. Cioè l'idea che il capitale nasce, si sviluppa in un certo modo e deve produrre il soggetto e le catastrofi che lo porteranno a una trasformazione radicale. Non c'è bisogno di prendere per buona quello che Marx sicuramente ha scritto, cioè che lui ha scoperto la legge fondamentale della storia come storia della produzione economica e del conflitto di classi non in forma di produzione economica e del passaggio di una formazione socio-economica ad un'altra attraverso la catastrofe. Questo secondo me è la parte caduca, è il tributo pagato al positivismo ottocentesco, è il tributo pagato allo spirito di sistema che c'è come, altro che no, c'è come. E ha pure ragione a mettercelo allo spirito di sistema perché quando si dice dialettica non è un'attrazione, è come dire il sistema è nella cosa. La cosa è il sistema, la cosa con la cimaliuscola, cioè il capitale, la società nel suo muoversi. E direte, beh, è ovvio tutto ciò. Per me sì, che ho tutti gli anni che ho e che mi sono formato quando tutto ciò era un discorso abbastanza comune. ecco, la cosa incredibile, impressionante, è che tutto ciò è scandalo e follia, stoltezza barbarie. Per le orecchie e per i cervelli, nel 99% degli intellettuali di ogni razza e credo e specialità accadente. Qualche esempio. Io mi sono fatto cinque anni di parlamento, lui è stato meno fortunato o più fortunato, ne ha fatto un po' meno. Sulla base del principio ovvio per chi pensa dentro questo modo di pensare, che far filosofia e far politica è praticamente la stessa cosa. Io non ho mai sentito la parola capitale pronunciata da alcun esponente di alcuna forza politica dall'estrema destra all'estrema sinistra. Mai, e non le ho mai sentite a pronunciare nemmeno in un contesto di discussione politica legata a questo o quel partito. Mai. Mi dite, beh, perché sei così attaccato alla parola capitale? Ma per niente, voglio dire, la parola capitale significa soltanto che hai capito che c'è un sistema ordinario e che le cose non si danno in modo analitico, ma si danno in modo analitico, certamente, ma perché c'è una logica e che questa logica è comprensibile. Un altro test. Andate voi a dire la parola neoliberismo davanti a un economista neoliberista. Ne nega l'esistenza. Esiste una sola realtà che è quella che c'è qui, che non ha passato, è puro presente, si manifesta in vari modi che se il mondo fosse come dovrebbe essere, sarebbero tutti sotto controllo del nostro sapere analitico. Poi, purtroppo, ci sono i sindacalisti, i politici, chi volete voi, disturbatori, che producono rumore. E questo rende le cose difficili. Voi capite la potenza? Non sto dicendo che tutto ciò è un meno. Tutto ciò è un più. Cioè, la potenza che si acquisisce quando si rinuncia alla dialettica. Perché davvero puoi pensare che tutto è possibile. E lo puoi pure fare. Chi si mette dentro questa strada, dentro questa strada, si mette dentro una strada che di solito viene criticata come la strada della infinita superbia dell'io che pensa di poter dominare il corso della storia e cambiare la realtà in umanità. In realtà questa è una strada di grande umanità. Questa è la strada della fatica. Certo, che può cambiare il mondo. Certo, facendola l'immane fatica di pensarlo in tutte le sue determinazioni, in tutte le sue contraddizioni. L'immane fatica di esporre il soggetto pensante a tutte le contraddizioni. Fino a quella suprema che è la sua scomparsa. Cioè, Luca ci diceva queste cose. Poi le avrà anche ritirate dicendo che non sapeva quel che diceva. Invece lo sapeva benissimo. Questa è una filosofia dell'assoluta umiltà. Questo nasce dalla mia lettura giovanissima di Adorno che appunto parlava di Hegel come di un filosofo dimesso e sommesso. Mentre invece i filosofi della potenza, del grande gesto, sono quelli che buttano via la dialettica. E dicono, tutto si può fare. Volontà di potenza, decisione. E lì c'è la Ibris. Noi dialettici, io mi ci metto perché l'ho studiato tutta la vita quasi solo dei pensatori non dialettici, perché c'è una ricchezza enorme, se si è ben chiaro. Ma noi dialettici siamo delle formichine. Siamo delle formichine che vogliamo portare pesi più grossi di noi in lunghissime tragetti con la pretesa che sì, alla fine, alla fine ci arriviamo a costruire la società regolata, il formicaio dove nessuno comanda. Allora, noi oggi siamo all'interno di un universo che produce un esso storico, che produce se stesso rinunciando alla storia, che non a caso è la materia scolastica più negletta e che è meno tutelata dalle incorporazioni del potere. Non ne vogliono sentire, la storia non esiste, non deve esistere. Iniziamo in un universo che vuole essere primo di storia, eterno per esempio, che nega la possibilità di essere compreso come un tutto. Si presenta come un tutto ai nostri occhi, ma si propone come un infinito gioco di specchi in cui l'infantile soggetto ridotto a infante, perché non parla, si specchia ora in questo, ora in quello, ora in quell'altro specchio e così vive una bella vita a frammenti e se è fortunato, se ne appaga, se è sfortunato, peggio per lui. Allora, voi diceva, ma perché sono diventati così malvagi? Perché il mondo è così malvagio? Perché? Perché noi non sappiamo se siamo nel momento in cui, questo proprio non lo sappiamo, nel momento in cui la dialettica tace per sempre o semplicemente in una fase costruita in questo modo. Insomma, la scommessa del presente è che le contraddizioni non sono produttive, le tenete e ci restate sotto. La scommessa del presente è che le contraddizioni cambiano, producono cambiamento, purché ci sia un soggetto che abbia voglia di interpretare. Da cui la enorme fatica che il nostro sistema presenta nell'accogliere momenti in cui le persone insieme ragionano e parlano. E' la grandiosa invenzione di internet come invenzione di separazione e di immediatezza. Grandiosa. Noi non sappiamo se la dialettica è stata il sogno di una cosa. Proprio non abbiamo gli strumenti. In questo momento certamente il pensiero dialettico è minoritario nell'accademia, in modo straziante, cioè si vanno perdendo pezzi di sapere anche tecnicamente indispensabili per fare il nostro mestiere. Non solo è minoritario nell'accademia, ma pare non essere più in grado di afferrare la cosa che sia pure a piccoli morsi di tante formiche che era esattamente ciò che voleva fare e che, dava per scontato, si potesse fare. Ci vuol pazienza. Ci vuol pazienza. Tanto bello studio accanito. Pensiamo che l'ultimo grande pensatore dialettico italiano ha avuto obbligatoriamente pazienza perché l'avevo chiuso in galera. E invece di disperarsi, c'è anche disperato. Ma insomma, quando non era disperato, pensava. E quel pensiero è servito a qualche cosa. Ora, nessuno di noi è chiuso in quel tipo di galeria. Siamo chiusi forse in un altro tipo di galeria. In un'altra gabbia d'acciaio. L'idea che si possa andare avanti soltanto per colpi, eventi, decisioni, che hanno come obiettivo che la contraddizione resta. Non è produttiva, è soltanto spostata. Oppure che abbiamo una capacità di riprenderci in mano il nostro destino, sostanzialmente è questo. Questa idea è la grande protagonista dell'interrogativo radicale di chi fa filosofia oggi. All'interrogativo, evidentemente, Alberto Bugio dà una certa risposta. Io non riesco a non darla anch'io in quel senso. Cioè l'idea di vivere in un universo fatto solo di decisioni, con tutto il fascino che ha la decisione, vuol dire vivere in un universo dove non capisci più, dove non c'è più niente da capire. Allora, a priori non c'è più niente da capire. Non solo, ma vuol dire vivere in un universo che porta dentro di sé contraddizioni potentissime, enormi, che vengono definite come errori di qualche algoritmo. Si è vero, abbiamo impoverito le società invece che arricchirlesi, perché il coefficiente di valutazione era, quello vero era 2,5, noi invece avevamo messo dentro una macchinetta 1,6 e questo ha scassato tutto, scusate. Oppure, la contraddizione è, ci fa parte della natura umana, ma cosa vuoi? La felicità per tutti è contenta di quel che passa nel convento e pensa come si stava male per l'ina. Oppure, ma quale contraddizione? Va tutto benissimo. Potete scegliere, questa è la gamma delle risposte, che sono sul tappeto, le risposte politiche che sono sul tappeto. Va tutto benissimo, se non ci fossimo sbagliati sarebbe nato tutto benissimo, non è vero che va tutto benissimo, ma cosa vuoi dalla vita? Il pensiero è un pensiero che vuole, come la sua modestia, nella sua umiltà, vuole infinitamente di più. Vuole infinitamente di più. Non vuole la luna, che è un modo di dire che mi ha sempre fatto venire i nervi, perché in realtà è tutto dentro all'idea che basti la volontà, quando invece qui si parla di produrre. Qui non c'è del volontarismo, qui c'è del sapere, che è un saper se stesso, è un saper produrre, un saper produrre se stesso. Qui c'è un pensiero che vuole molto di più ed è molto più umile, è un sapere molto più... è una via crucis, è una via crucis. Certo, c'è una trascrizione filosofica della teologia e c'è pure l'idea della salvezza finale. La fermaggia dello spirito finisce così. Ora, Marx, che è sostanzialmente estraneo alla teologia politica, anzi, ho visto con grande piacere la grande importanza che Burgio dà alla questione ebraica, che è, anche secondo me, praticamente il testo più importante del cosiddetto Giovanni Marx, dove si confronta con la struttura profonda della modernità, che è la teologia politica. La scopre, spiazza, con un colpo davvero di grande intelligenza, spiazza tutta la disputa destra-sinistra-geliana, la spiazza, dice, siete soltanto due versioni, una più attardata ed un pochino più moderna, di un unico grande problema, che è quello che non vedete. Quello che non vedete. Cioè, il problema della duplicazione del mondo. Ma la duplicazione, che è il problema che sarà, poi il problema anche di Nietzsche, non la risolvi, spaccando uno dei due elementi. Anche in Marx c'è l'idea che alla fine c'è una conciliazione, si chiama comunismo. Non c'è l'inconciliato, c'è il conciliato. Poi, il vero problema è che questa filosofia è esposta alla storia. Proprio ce l'ha dentro di sé. E, come il soggetto filo storico, coloro in quali si facevano in qualche modo riferimento a questo testo, a questo, trasformandolo in narrazione, ovvero in ideologia, hanno perduto. Non dico guardate l'Urs, dico guardate l'Italia. E, per una filosofia di questo tipo, quel tipo di sconfitta è un problema, tranne che tu non riesca a dire te stesso, che poi è quello che sta dietro l'attuale timida ripresa degli studi su Marx, che, dopotutto, quell'affermazione di filiazione rispetto al pensiero di Marx era spurga, o comunque era una delle possibili interpretazioni dell'asciuto marziano. Una delle possibili. Per di più, avvenute in contesti molto difficili e assai diversi da quelli che erano previsti e che erano stati analizzati da Marx stesso. Il risultato, il risultato è che si può ancora leggere Marx proprio con la potenza critica che c'è dentro, e che dal libro viene fuori benissimo, la potenza critica, che vuol dire il non, beh, lo spirito di contraddizione è reso sistema. Lo spirito di contraddizione è reso sistema, non perché è un gioco nella tua testa, ma perché lo vedi, c'è ancora una potenza critica, c'è una potenza critica, non è stata consumata dai marxismi che sono andati al potere, che è di solito quello che i più attenti alle proteste ti dicono, ma insomma, va bene, tu sei pieno di buoni sentimenti, ami l'umanità, però hai visto come è andato a finire. Allora, non si tratta di amare l'umanità, Marx non è un umanitario, si tratta di avere un'alta concezione, alta concezione dell'umanità in quella umiltà. Alta concezione vuol dire non è possibile che l'umanità viva senza sapere quello che fa. E per sapere quello che fa deve scavare, scavare, è una grande immagine del suo amatissimo cespo. Siamo in fase di scavolo, non è ancora rispuntata, qualcuno aveva detto che era spuntata nel 1917, diciamo che lì è spuntata una volta, ha fatto, si è guardata intorno, ha prodotto qualche cosa, ma poi, ecco, continuo a scavare. Continuo a scavare. Questa è la domanda. Per saperlo, ci sono due cose, studio e tassi, e politica. Studio, e allora bisogna leggere questo libro e i libri come questo. A politica, c'è anche il caso che per qualche anno sia meglio astenersene, perché non è. pensiero è chiaro che questo pensiero non te lo puoi tenere in tasca. Non è un pensiero consolatorio, non serve per star bene. però non è detto che tu non sia in gara di accorgerti che oggi, come si dice, le condizioni oggettive non ti consentono di essere efficace. e che forse la lotta politica più accesa e più grande che puoi porre in essere oggi è quella di continuare a studiare e di continuare a opporre al positivismo decisionistico sgangherato imperante il fatto che si può pensare diversamente. Si può pensare diversamente. Voi siete, molti di voi sono giovani, siete giovani, non siete ancora inseriti in contesti in cui sentite il peso, di solito l'università si è liberi, sentite il peso della coercizione sistemica, nessuno piglia una pistola per la punta. Quella eccezione è il sistema. Il fatto che ti senti un lomino giallo nella barzelletta blu pesa, pesa. Avere la forza di come si dice, non importa continuiamo e qui cito il mio amatissimo Max Weber che con Marx non c'entra niente. però aveva come dire grit. Non importa continuiamo e anche studiare i libri importanti come questo. che in